Aspetta, aspetta, aspetta Questa la tagli? No, non la taglio Ancora finita C'è per questo odio Fortnite, c'è una fisica irreale Amore! Adesso... Salve ragazzi, bentornati da... Ehi Topone Che carino quando lo dice l'autrice di questo... Cosa Saluto Allora, adesso il canale diventa di proprietà di Anna E sarà lei dirigere questo video Per cui, ricominciamo da capo Adesso tocca a... No, perché non si vede sta cosa? Vabbè Adesso mai, tocca a te Grazie Bene, allora Dobbiamo fare una reaction Sì, esatto Aspetta, presenta Presenta il video Dobbiamo ricominciare da capo, ricordi? Ok, allora Benvenuti nel canale di Ehi Topone Allora, questo è un video reaction Siamo qui con me E siamo qui con me, signori Io sono il fidanzato di... No, ricominciamo Bella ragazzi, benvenuti sul canale di Ehi Topone Oggi siamo qui con Anna Che sarei io E con... Ehi Topone Ehi Topone Siamo appunto sul suo canale Ma ho io le redini Per questo video Questo è un video reaction Gliel'hanno chiesto Anzi Iniziamo malissimo Gliel'hanno chiesto quelli della crew Giusto? Sì E siccome hanno scassato a suo dire Con questa cosa Lui ha scassato a me E di conseguenza siamo qui Bene Adesso quindi Dirigerà tutto Anna I canali sono questi qui Luma Yuso sarebbe il secondo canale del Luke Adesso Tu Cominci dai canali Quello che ti sta più simpatico Prendi video che più ti attirano Ok E... Li guardi Iniziamo a non fare troppe simpatie Dal canale che ti sta più simpatico Dai Che schifo Io direi di partire in ordine Senza discriminazioni Lisi fighter Vediamo allora Ah partiamo col dire che Non guarderò i video di Among Us Perché Perché il gas ti fa schifo? Anche E cosa ho appena detto? No perché quel gioco non mi interessa Non mi attira Ah ice cream Questa era potente Ho fatto rob Rob con Vabbè partiamo con questo allora Ice cream Eeeh Ciao ragazzi Sono la lottora Come andate all'is Infatti Non so questo è un nuovo video E dai Ah intanto C'ha una voce carinissima Ecco E' difficilissima Allora se mi tradisce con un arbanese Questo Andiamo Ho solo detto che ha una voce carinissima E se non disto è che è una voce carinissima Mi sento che tu ti nascondi Quelli che ti vede Comunque questa musichetta che parte quando Ti vede La Non ti sforzare che Che cosa? Non mi sforzare cosa? Mi fai dire Mi fai dire Sì? Non so c'è troppo a te che mi insegui Perché la mettevi sempre E mi cagavo sotto Eh già Fai più paura te di Rod Dai Non mi caccio la faccia brutta No Bacini Sbagliamo di no Basta Solletico Amore Perché ridi? Ho appena detto Non è vero Eh sì C'è Anna che ride a casa In tutto questo Mi fai solletico Non è vero Non lo so Ma come Non la sto neanche toccando Madonna Madonna Carina la linguetta Mi stanno spettando dietro la porta sto qui Io mi sto affezionando alla sua faccia È carina Vuoi farti una maschera da coso? Da cos'è? La facciamo? Va bene ragazzi Con tipo una carta testa Facciamo così A mille iscritti Usciamo la faccia Facciamo vedere la maschera di Rod Che ha costruito A duemila iscritti Esco i piedi di Anna Io non sono d'accordo Perché no? Perché no? Non ho saputo cosa hai detto Cosa c'ha scritto Perché scusa? Cosa hai conto? Oh mio Dio Il bambino Ma svegliati Mi è stato inventato Proprio che c'è un'altra sera spaventosa Fame Figo C'è il bambino congelato Alla gente No non sono la game over Fame Game over No Anyway Ah Cusi Bene Prossimo canale Sì Questo mi piace Voto 10 Ottimo Basta Mi pianta il dito Nelle costole Non è vero Già che ricordo Uscirò Io uscirò Uscirò ai piedi di Anna A duemila iscritti ragazzi Chi te l'ha detto Prossimo canale Davix 3, 2, 9 Yes Vediamo un po' A 17 anni Gioca caccia E insulta la mia voce Ti ricordi di questa caccia? For life Purtroppo sì Aspetta Dici il tuo parere Dici il tuo parere Su questa cosa Non mi va di dire il mio parere Ricorda il bug supremo invece Ma non mi va di mischiarmi ste robe Mischiati in questo allora Non sono affari miei Va bene Questo è affari miei Quindi Aiuto Eccomi Mi ha messo Aia Mi prendo schiaffi Ai Mi ha preso schiaffi Ma smetti Sta faccio da solo Io sorvolo anche su questo Qua ci sei te Quindi non lo vediamo Ma questo è un video pieno Di me che rito Perché mi fai Sollevito Bello il clown Comunque 4 occhi Ma sembra che gli occhi Siano tipo Sicuramente il codice Non è quello che ho digitato Andiamo Intanto ci sente la famiglia Di sottofondo Più realistica Ma questa è camera sua Comunque aspetta amore Aspetta aspetta Questa la tagli No Non la taglio Che 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 Amore Ma questo C'è Soltanto Perché Mi ha avuto una piccola Fuoriuscita di gas Che schifo Non possiamo parlare delle tue Quindi Questa foto è stata scattata Negli anni Novanta Fine anni 90 Non so dove andare a cercare Sinceramente Corri Ma il codice era la foto comunque No Ma regà ma non capisco Ah il codice è questo 12 11 89 Oh c'è arrivato Finalmente Ah ma vedi che sono scemo io No no Leva 12 11 89 Giusto Ah ma mi regà so forte Puoi chissare armi Munizioni Vabbè ma No ma mai non mi interessa Grazie Senti che profumino Mi amassiamo oggi Oddio Infatti sto per sboccare Ma ti ho filmato Che devo sparare Palloncino No Ma tanto da casa Guardando il video Non la sento Non la puzza Ma io si L'ho fatta sul letto tuo Mi sto svenendo Che devo fare Che male Aia Aia Che male Hai sentito un dolore pure te Non la sento un po' Non la sento un po' Non è tanto Non lo rimane impassibile Secondo me non scenderà Fuori d'oggi Sei brudelle Davide Aspetta guardate Ecco perché odio Fortnite Notate che La struttura si sta costruendo Ma lui può già camminarci sopra Guardate Guardate Lui già ci cammina sopra Nonostante non sia ancora finita Cioè per questo odio Fortnite C'è una fisica irreale Amore Adesso Hai capito E io non posso fare una puzzetta innocente Però tu puoi ruttare nel mio microfono Mi annoi quando parlo Ci mettiamo tre quarti Dov'ora Luke 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 the Duke The Duke of Horror Questo vai E dai pure la sua revenuta Tanto questo mi mangia la mano Perché si muove così Pulsanti male E facciamo la trollata sul tavolo eh E no Faccio io la trollata Intanto E' uccito Nasrat Salve a tutti Ciao ragazzi E benvenuti da Luke Su Evil Nun 2 Origins Torniamo dalla nostra cara suora Perché oggi scopriremo il finale segreto Che riguarda l'incontro tra Sister Maline E Nasrat Allora impressioni sulla sua voce E' epica Perché voleva riportare in vita La sua figlia perduta Elisa E invece di riportarle in vita I poveri polli Sono diventati poi mutanti I poveri polli Tanto per sbloccare il finale Si è detto Bisogna completare la ricetta miracolosa E per sbloccare questo capitolo Bisogna accedere In chiesa E ne andiamo subito Ogni essere umano Per quanto malvagio Venite Per fare tipo Il narratore Degli audiolibri Luke E' un podcast Per fare il brodo Ricordiamolo Una patata Mi assomiglia a una pietra Quasi Oppure un pezzo di pane Diciamo Lasciamo stare Facciamo le cose nostre Abbiamo qua pure le carote Vabbè Dopo che Luke Ci ha insegnato a fare il brodo Ottimo Ma Luke Infatti Apri un corso di cucina Per avvicinarsi Chef Luke Io lo seguirei Ok Chi manca? Ah Fans 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 Ma davvero sono io Sono io in gara Supera tutti i fan Vai 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 Oh Che c***o Che testa coda Che testa coda Che ho fatto Mamma mia Che testa coda Che bello In diretta Erbanico ho creato Vabbè Tutti Oh Stanno a fare Sto Sto Fa un casino Che c***o Che c***o Di inizio Di gara Incredibile Dio quante roba Che devo censurare Comunque Sai cosa Cosa Amore dai Va basta Veramente Stupidissima Stupidissima Ti do un po' di lavoro Non fai niente Nella vita Botte Tante botte Dio sei per questo Eh Mettemelo la tua bellissima Bellissima foto A 2000 iscritti Oltre ad uscire Di via di bianna Esco anche il video In cui Anna mi trucca Ma è un video Stra vecchio Prima ancora Prima ancora Che fossimo in quarantena Vi dico solo questo Mi ha baciato Ma c***o a lei Sta qua E' questo il mio canale Allora pensieri su Pensieri su France Mi riesce Bene Voto Dieci Bastardo C'è provato Del mio canale Che ne pensi? Carino Carinissimo Che è bellissimo Stupendo Allora che video Vedere? Questo no Sicuro Aspetta Ora Fiamo così Ordiniamo per più popolari Non vediamo che Quelli con te Sono sempre in testa Vabbè Non proprio Non stare Sulle mie granate Questa ha una copertina Bellerrima L'hai disegnata te Grazie tante Con i scaraponi Bella mamma sua Dai E' care ucce Care ucce E' caruz Guarda che belle Qui veramente Passi a caso Tu invece Stai ferma Come un sasso Io stavo Ammirando La mappa Se non ammiri Il mio costume Da Power Ranger Invece In effetti Si Sarge Sembra un Power Ranger Sarge Bevo Pena Arena Aspetta Sto passando Aspetta Non passare Magari Perché se no Aspetta Che maleducato Che sei Ma pure te Che ti metti in mezzo La mia risata Da gallina La mia risata La mia risata Senti la tua risata È naturale Se sei una gallina Ridi come una gallina La metti così Bene chiudiamo questo video Così posso andare a ucciderlo Che paura Ci stiamo cacando sotto Fai lo spavando Fai lo spavando Fai lo spavando Ti risuscito E poi ti riuscito Allora abbiamo reagito Molto bene Io direi di chiudere il più in fretta possibile Vuoi salutare i tuoi amicos? Signori Il video è molto bello Ringraziamo Anna che ha diretto il direttivo Diretto le direttive direttistiche Sì E anche però Il canale è mio Quindi Lo modifico io Sto video Decido io cosa fare No Noi ci vediamo Al prossimo video Mi raccomando Spaccate un sacco di like Se volete anche che Anna Ritorni su Open Arena A mille iscritti ragazzi Io ad Anna Usciamo la faccia Così possiamo fare anche Le varie challenge Tutte le altre cavolate Che fanno i miei contro te Le aspettate con ansia Immagino proprio Beh la mia cazza la vogliono vedere tutti no Anche la tua no Noi a 2000 iscritti invece vi esco i piedi di Anna ragazzi Il problema però è che YouTube potrebbe chiudermelo per Per bullismo sui disabili Perché Anna non ha le gambe quindi Ma quanto sei Cosa? Quanto sono cosa? Sciocco Quanto sei sciocco Tu sei sciocco Dai Va bene Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti Ciao Ciao